Benvenuti al format Donne, Legalità e Società. Che conduco eccezionalmente io per questa puntata, ospiti studio l'avvocato Giovanni Basile e la sociologa Simone Di Lucia che già conoscete che ogni tanto è ospite all'interno di questa puntata. E affronteremo come argomento alcune sentenze di Cassazione che hanno dato la possibilità ai figli di riconoscere un risarcimento morale. Cioè figli che non vengono riconosciuti dal genitore possono avere un risarcimento morale. Questo sarà l'argomento che affronteremo in questa puntata. Avvocato, ci spiega un po' quelle che sono la tematica, quindi quelle che sono le sentenze e i vari casi che hanno interessato l'argomento. Sì, innanzitutto buonasera. Diciamo che noi trattiamo un caso che è specifico, però è una successione di sentenze. Ci sono state nel corso degli anni, dal 2004 fino a una recentissima di novembre, dove in casi particolari vi è un riconoscimento di un dovere di risarcimento danni nei confronti dei figli che non sono stati riconosciuti dal padre. Questo, innanzitutto, voglio subito precisare che è un risarcimento dovuto in quanto il padre era a conoscenza del rapporto di filiazione, quindi non aveva riconosciuto i minori e quindi, pur sapendo, a distanza di anni, è stata poi dichiarata tramite una sentenza della Cassazione l'obbligo al risarcimento dei danni. È importante questo perché bisogna poi stabilire i vari parametri che il legislatore e il giudice pone affinché si possa avere questo risarcimento. Innanzitutto si parla di una lesione di un diritto che la Costituzione sancisce, quindi il fatto di un figlio di sapere chi è il padre, di avere un padre. Poi c'è una lesione importante di questo diritto e successivamente c'è un danno molto esteso. In questo caso si parla di due ragazze che hanno perso in giovane età la madre, una ragazza madre e il padre si è sempre rifiutato di riconoscerle. Queste ragazze hanno vissuto poi con la nonna materna, quindi la madre della madre. Hanno avuto un po' delle disavventure con la droga, quindi sono state arrestate e quindi il giudice ha fatto un ragionamento come questa mancanza e questo vuoto affettivo, costante e quindi mai interrotto, ha provocato alle ragazze, quindi al minore, un vuoto che gli ha comportato uno stravolgimento totale di un punto di riferimento che è il padre e che quindi questo danno che l'ordinamento non lo inquadra come patrimoniale ma esistenziale ha avuto una conseguenza molto devastante e quindi è oggetto di risarcimento. Io proprio con Simone mi volevo soffermare su quelle che sono le conseguenze. L'avvocato ha parlato proprio di queste conseguenze che un minore può avere perché si tratta proprio di un rifiuto, un minore ma anche insomma una tappa adulta, adolescente eccetera o un diciottenne. Ecco, Simona, io questo ti volevo chiedere, quelle che sono le conseguenze per una persona che si sente rifiutata e soprattutto come possono essere poi variegate rispetto diciamo all'età di questo figlio che subisce il rifiuto? Beh, effettivamente le conseguenze hanno un grosso punto di riferimento su quella che è la crescita effettiva del minore. Un figlio rifiutato effettivamente viene turbato psicologicamente e quindi anche nel relazionarsi proprio con i compagni che magari hanno a casa i propri genitori che li accolgono il bambino rifiutato si sente solo, viene lasciato solo e appunto come diceva l'avvocato è come se vivesse in un vuoto psicologico. In effetti quindi un'altra conseguenza potrebbe essere quella del bambino che si chiuda in se stesso e non abbia più legami con l'esterno, anche gli umori del piccolo possono cambiare quindi questi bambini che vengono poi non riconosciuti dai genitori subiscono come dire hanno bisogno delle attenzioni in più, cioè come se avessero bisogno di un affetto di un maggiore affetto di chi magari ha i genitori a casa insomma e quindi possono essere anche più svogliati o anche più nervosi, si mostrano così. Sì, magari anche in se stessi e rifiutarsi poi, rifiutare quello che è il mondo esterno quindi la socializzazione con il resto della persona. La socializzazione, quindi è importante effettivamente frequentare il gruppo di pari avere delle amicizie con le quali poi potersi confrontare. Avvocato, una cosa importante da sottolineare è il fatto che questo diritto non va mai in prescrizione per i figli. Va in prescrizione diciamo nel momento in cui ne sono a conoscenza quindi non va in prescrizione nel senso che essere a conoscenza... Cioè un figlio diciamo può sempre rivalersi sul genitore rispetto a questo diritto? Indubbiamente sì, perché il diritto sorge per filiazione e quindi nei casi di accertamento di paternità è proprio il fatto di essere figlio che comporta l'obbligo dell'assunzione di responsabilità nei confronti dei minori. Nel caso specifico per esempio di questa sentenza è importante sottolineare che l'azione non era diretta soltanto al risarcimento del danno ma aveva altre due voci che i giudici hanno in un certo senso non presi in considerazione per intervenuta prescrizione. La prima sarebbe quella della restituzione delle somme che la madre ha corrisposto ai figli per farli vivere e quindi diciamo visto che il conige corrisponde la metà delle somme all'altro conige per la vita dei minori e dei figli che hanno in affidamento loro chiedevano questo. Il giudice non ha dato ragione perché l'azione è stata proposta questo andiamo un po' nel tecnico dai ragazzi non come eredi quindi di motu proprio quindi come l'avessero chiesta loro e allora lì è sorta la prescrizione e poi chiedevano anche un mantenimento il mantenimento non è stato dato perché per ottenere il mantenimento e quindi l'obbligo del genitore ad accudire il figlio è necessario un'impossibilità lavorativa non una mancanza di lavoro quindi impossibilità lavorativa che dovrebbe essere comportata da una invalidità oppure un problema tale da non permettere di lavorare quindi mentre sono nell'ordinamento dei diritti imprescrittibili oppure che la prescrizione è lunga nel senso che decorre dal momento in cui si ha conoscenze e quindi possono passare anche tantissimi anni oppure ci sono dei diritti che si prescrivono perché chi lo ha non se ne avvale quindi non lo mette in esecuzione e quindi decorre il tempo. E quali sono gli elementi che utilizza il giudice nella valutazione per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento? Le cose più importanti? È una domanda molto particolare perché riguarda ogni caso è specifico cioè in questo ramo del diritto il diritto di famiglia le storie sono simili ma non sono mai uguali e quindi c'è una valutazione che è complessiva dovuta anche a tutta una serie di perizie tutta una serie di risultanze che spesse volte non dipendono dai legali ma dipendono dai consulenti quindi faccio l'esempio saranno state sicuramente espletate delle perizie tecniche sulle ragazze per capire effettivamente i danni subiti a livello emotivo perché come diceva la dottoressa è un vuoto è un'assenza di una figura fondamentale immagino una ragazza che ha come riferimento il padre in molte cose cioè si sa che per una ragazzina il padre è un riferimento molto importante quindi quel vuoto è un problema di relazionarsi con un mondo che non c'è che gli è stato sottratto e questo quindi può comportare la perdita di alcuni riferimenti che poi con un effetto domino a catena si riververo nella società nel suo vivere quotidiano quindi una quantificazione pecuniaria io ti rispondo forse in un altro modo non c'è un risarcimento economico che possa rimborsare quello che i ragazzi hanno perso questo è il dramma del diritto di famiglia cioè anche una somma ingente non ti restituirà mai quello che tu non hai mai avuto chiaro perché possono magari in alcuni casi decenni e decenni che comunque i ragazzi hanno perso sì, indubbiamente sì mi dicevi prima, mi accennavi anche al fatto della possibilità della moglie nel caso insomma di una coppia quindi che ci sia un bambino che è stato concepito fuori quindi dal matrimonio quindi ha un padre biologico e un padre insomma di cui poi ha avuto il cognome in questo caso invece che succede? in questo caso è come se ci troviamo in una situazione totalmente opposta cioè un doppio genitore quasi sembra un doppio padre cioè immaginiamoci un ragazzo chiamiamolo sempre un minore che a distanza di dieci anni scopre che il padre con cui ha visto tutti i giorni non è lui il padre biologico allora a livello affettivo quella persona farà sempre parte del suo immaginario di padre però in realtà il padre biologico è un'altra persona da un punto di vista tecnico qui parliamo se vogliamo entrare nel tecnicismo di quanto si aziona questa richiesta di disconoscimento perché poi si tratta di per l'ordinamento italiano si tratta di procedere un disconoscimento di paternità nei confronti del padre che ha riconosciuto ma non è padre biologico per fare poi successivamente un accertamento di paternità in entrambi i casi la prova diciamo provata oltre vi ripeto è un po' difficile trattare di cose tecniche oltre a una prova dell'adulterio diciamo così quasi sempre la prova principe è la prova del DNA e in questo caso è la moglie a un anno di tempo allora la moglie ha sei mesi di tempo da quando è nato i presupposti sono o una quali sono i presupposti per azionare per fare in modo diciamo che l'altro perché noi vertiamo vertiamo in una materia molto molto particolare perché può creare dei danni impossibili proprio da capire allora innanzitutto per azionare un disconoscimento di paternità si deve provare o un'assenza di coabitazione dai 300 giorni ai 180 giorni prima del parto o che il coniuge che si vuole disconoscere era impotente per quel periodo o che era assente quindi pensiamo un militare all'estero e quindi il concepimento non è possibile in quel periodo o un adulterio quindi questo è l'elemento per partire successivamente poi la prova principe è la prova del DNA e ci sono delle decadenze nel caso della donna la decadenza sono i sei mesi dopo il parto nel caso invece del chiamiamolo padre padre naturale è un anno dal giorno in cui ne ha avuto a conoscenza quindi che ha conosciuto da adulterio o capita anche di avere dei risultati come posso dire ematici che già ti fanno capire faccio un esempio una trasfusione di sangue se il medico dice voi non potete donarlo perché non siete compatibili io da quel momento capisco che qualcosa non c'è e da quel momento decorre l'anno anche il minore anche il minore può rivolgersi per ottenere il disconoscimento del padre sempre decorso un anno dal giorno in cui ne ha avuto a conoscenza quindi in quel caso lì della prova ematica che non è compatibile anche il minore può porre la domanda però questo viene fatto tramite il pubblico ministero quindi perché vi ripeto c'è sempre un intervento della procura della Repubblica o comunque del Tribunale dei Minori quindi è una realtà molto molto particolare uno dei casi eclatanti di cui si sta parlando anche in questi ultimi giorni è il caso Maradona per esempio c'è del figlio che lui comunque non ha mai voluto riconoscere è un caso che io ho seguito da vicino perché ero ragazzo e mio padre e ancora oggi ha 27 anni lavorava nel laboratorio dell'università che doveva fare la prova la prova su Maradona in quel caso là abbiamo avuto per la prima volta la decisione che chi si rifiuta di sottoporsi alla prova ematica è come se attestasse che quel figlio è suo figlio cioè quindi in quel caso là il fatto che Maradona non si è voluto sottoporre alla prova ha certificato come un'ammissione della sua paternità però di fatto in tanti anni il figlio adesso mi pare se non sbaglio avrà 27-28 anni la battaglia legale è ancora in corso comunque non si è chiusa in quel caso lì è ancora in corso proprio per un motivo risarcitorio perché da quello che so dalle cronache giornalistiche si parla poi di un discorso di pari opportunità cioè perché per l'ordinamento italiano il figlio nato fuori o all'interno di un matrimonio è figlio uguale e quindi deve avere le stesse chance le stesse ma non parlo soltanto da un punto di vista patrimoniale io parlo proprio da un punto di vista affettivo infatti so che il ragazzo voleva che il tribunale emettesse dei provvedimenti che obbligassero Maradona a frequentarlo e quindi è proprio questo forse è l'esempio che più che patrimoniale è una ricerca affettiva più che una ricerca patrimoniale Simona l'avvocato prima accennava anche ad un altro trauma cioè quello lì che può emergere laddove tu cresci sapendo che quello è tuo padre poi a un certo punto dopo dieci anni quindici anni a volte ci sono registrati dei casi addirittura dopo vent'anni scopri che in realtà non era resta pur sempre tuo padre perché ti ha cresciuto è chiaro però non è il tuo genitore biologico anche in quel caso c'è un trauma per quello che tu perché lì poi forse emerge anche il fatto di non sapere o di sentirsi anche un po' tradito dall'altro genitore dalla mamma che sapeva ecco che magari non ha rivelato però poi queste sono questioni proprio personali ecco di chi vive è una questione del genere quindi non si può non ci si può fare maestri tra virgolette su queste cose beh io credo che sì il bambino insomma venga anche turbato da un possibile da un possibile accaduto e che entrambi i genitori e anche il genitore che non ha mai conosciuto il proprio figlio debbano aiutare questo questo bambino o ragazzo a farsi comunque accettare anche dal padre superare un po' quello che potrebbe essere effettivamente un tradimento un tradimento però tra virgolette perché magari dobbiamo dobbiamo anche conoscere poi le motivazioni che hanno portato a non prendere quel bambino a non accudirlo ecco bisogna vedere è chiaro perché magari può anche succedere che sia stato non so frutto di una relazione occasionale e quindi magari la mamma per cercare in qualche modo di far sopravvivere il matrimonio e di non andare poi verso una frattura magari non l'ha detto quindi giustamente anche avvocato bisogna un attimo valutare quelli che sono i singoli casi perché ogni caso lei sicuramente ce lo insegna ogni caso ha una sua peculiarità insomma sì il problema è anche un altro cioè mi trovo spesse volte a dover combattere con una realtà giudiziaria particolare cioè io dedicandomi quasi esclusivamente al diritto di famiglia cerco di avere un approccio da diritto di famiglia ossia che seguo il caso specifico con dei supporti di specialisti perché reputo che si possono fare tantissimi danni quindi quando si tratta una cosa del genere bisogna avere il supporto alle spalle di psicologi o comunque di persone che hanno un approccio adeguato e ottimale non è semplice dire a un ragazzo che la realtà in cui ha vissuto fino a qualche giorno prima è una realtà diversa e per fare questo si arriva a distanza di tempo purtroppo nei tribunali italiani queste cause spesse volte vengono trattate insieme alle cause di sinistri stradali vengono trattate in ambienti in cui c'è una difficoltà anche a dire vicino ai colleghi potete un attimo liberare l'aula per questo problema mi è capitato che un giudice mi ha risposto non è ordine pubblico perché liberiamo l'aula quindi bisogna anche lavorare molto sull'aspetto giudiziario perché sono storie che meritano una particolare attenzione sono storie sempre particolari l'errore che non si deve compiere in un caso semplice o un caso che già si è presentato sono proprio la vita delle persone è un qualcosa che inciderà in maniera indelebile nelle storie dei soggetti che si presentano allo studio questa è la realtà io vi ringrazio ringrazio l'avvocato Basile ringrazio Simona e vi do appuntamento alla prossima ondata ringrazio Simona